Pronto, Timmy Joe! Allora Morris, va tutto bene? Ci sono i toffi? Qualcosa non va? No, ma renditi conto che non è facile a quest'ora di volta e qui a Londra trovare tutti questi soldi incontanti! Ma qualcosa ho già trovato però! Va bene Morris, dammi a sentire. Con cui subito rastrellare tutte le sale corse di Cecco Aio, li conoscono i miei assegni. Se non dovesse bastare, vada a lui per... personalmente! Hai capito Morris? Personalmente questa è l'ora migliore perché stanno contando gli incassi della giornata! Ma corri Morris! Corri Morris perché Sanderson scopre che è scoppiata la guerra! Non lo freghiamo più! Qui è George De Niro in diretta da Porto Saide. L'improvviso attacco degli aerei israeliani è stato violentissimo. La zona più colpita è quella del porto. Come si può vedere dalla terrazza del nostro albergo, le fiamme degli incendi continuano a divampare. Due caccia e quattro motovedette sono stati centrati in pieno. Anche due navi estranei al...